Salve a tutti, dobbiamo realizzare un progetto su una tavola di 80x80 e sono stato costretto a comprarla in un primo sender perché tra quelle da riciclare non ne avevo. La tavola era fortemente imbarcata, vi mostro come sono riuscito a renderla di nuovo perfettamente orizzontale con un metodo molto semplice, degli stringenti, un piano orizzontale su cui poggiare la tavola e dell'acqua. Innanzitutto la tavola va prima bagnata anche nella vasca dal bagno con dell'acqua calda, proprio insupparla per bene, farla scolare e prima che asciughi porla su questo piano. Nella parte di sotto del piano sfruzzare dell'acqua, quindi renderlo bagnato, si manterrà bagnato per un po' di tempo. Nella parte di sopra per le prime 6-12 ore mantenere umido la parte superiore della tavola. Contemporaneamente mettere gli stringenti e rendere la tavola perfettamente orizzontale con l'aiuto degli stringenti. Per le successive 12 ore non c'è più il bisogno di bagnare perché le fibre del legno devono ritornare di nocide, si devono seccare e ritornare nella nuova posizione, quella stabile diciamo, e ciò avverrà con l'aiuto degli stringenti facendone mantenere l'orizzontalità che noi abbiamo. Considerate che questa tavola con uno stringente messo da un lato, da un altro lato c'erano circa 12 cm di differenza. Abbiamo messo sotto tensione il legno, purtroppo questo è un fenomeno, quindi tende a ritornare di nuovo sulla sua posizione originaria, quindi abbiamo dovuto tenderlo un pochettino di più. Probabilmente ritornerà di nuovo, tant'è che l'abbiamo imbarcato un pochettino al contrario, ma penso che dovremmo arrivare a quello che è il nostro intento, cioè direnterlo quasi o meno risultato. Torniamo a distingere. Diciamo che è quasi l'orizzontale, insomma, ci siamo così, riuscite a... Sì, ci possiamo accontentare. Sì, ci possiamo accontentare. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.